Un reticolo di diffrazione è un oggetto tipo ICD che data la luce bianca la riemettono all'angolo differente a seconda della frequenza, quindi se lo mettiamo di fronte alla lampada a incandescenza vedete che la luce, il primo spicco dello spettro è continuo ed emette in tutte le frequenze rosso, blu e verde seguendo la legge di Planck dello spettro di emissione continua. Se facciamo lo stesso lavoro alla lampada a fluorescenza vedete che le righe di emissioni sono molto più specifiche e legate essenzialmente al gas che la lampada a fluorescenza ha al suo interno. Lo stesso dicasi per la lampada a led, in questo caso i tre led hanno tre emissioni, tre blob.